Ciao! La missione di AMI è attrarre dei clienti nazionali, europei e internazionali che vogliono far parte della comunità della qualità accessibile sul web e desiderano promuovere i loro contenuti pubblicitari sulle nostre piattaforme. Clienti che condividano con AMI il codice etico, la responsabilità sociale e portino avanti il tema della sostenibilità. Valutate le nostre proposte e per qualsiasi domanda non esitate a contattarci. Grazie e a presto!